Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo qui nello speciale dei 50 iscritti Vi ringrazio davvero tantissimo di questo primo piccolo traguardo E per voi ho scelto di fare questo super speciale Io nell'ultimo video vi avevo detto di scrivermi una domanda sul mio discord E nel prossimo video vi avrei risposto Ed eccoci qui, iniziamo subito con la prima domanda La prima domanda me la fa Ader che mi chiede quanti anni hai? E allora io il 12 novembre, cioè tra qualche giorno, faccio 13 anni La seconda domanda me la fa Sadboy che mi chiede Hai mai fatto una collaborazione su YouTube? No, però a breve ne farò alcune La terza domanda me la fa Malamatteo che mi chiede A E La quarta domanda me la fa Mr. Matthew che mi chiede Sus, hai mai fumato? No e mai lo vorrò fare La quinta domanda me la fa Yaru che mi chiede Sei una donna? Da quel che so io no La sesta domanda me la fa Fitoroita che mi chiede Come hai creato il tuo nome? C'è una storia? Sì sì, qual è? Ne ero certo che qualcuno mi avrebbe chiesto questa cosa Ed infatti ho già una risposta Sì, il mio nome ha una storia Il mio nickname me la gioco Lo aveva creato tanti 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 anni fa mio padre Ed è arrivato a me Aveva un significato piccolo Cioè io questa partita me la gioco bene Ma ormai sono raffigurato come una mela Non so perché La settima domanda me la fa Jake Che mi chiede Mela, sei fidanzato? No, non ancora L'ottava domanda me la fa UsoWazd Che mi chiede Domanda per Mela Qual è l'obiettivo più grande che vorresti raggiungere su YouTube? Allora, non ho ben in mente un obiettivo Spero solamente di intrattenervi Comunque se devo rispondere per forza Vorrei arrivare ai livelli di carpi, ecco La nonna domanda me la fa Ualfor Che mi chiede Come ti è venuta l'idea di fare video su YouTube? Allora, sabato 6 novembre 2021 Io mi son detto con un mio amico Ma che ne dici se facciamo un video su YouTube? Così tanto per scherzare Poi vedo Su visualizzazioni su visualizzazioni E dico Aspè Forse la devo prendere sul serio La decima domanda me la fa Ualfor Che mi chiede E come ti aspetti il futuro del tuo canale? Come ho già detto prima Non mi aspetta tante cose Spero solo di intrattenervi L'undicesima domanda me la fa Nate Che mi chiede Ahimai Nate che domande sono Comunque no Allora Spero che questo video vi sia piaciuto Anche se un po' corto Mi ci sono impegnato molto Vi ringrazio tantissimo Di questo primo piccolo traguardo E passate Nel link in descrizione Nel video di Mr. Matthew Che l'idea di questo video È stata sua L'aveva fatta già lui in precedenza Vi ringrazio a tutti Ci vediamo al prossimo video Bella Ciao